ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale io sono davide quest'oggi andrò a presentare il video tutorial di shotten totten 2 andiamo subito a vedere il setup e lo svolgimento di gioco andiamo a vedere quindi il setup per prima cosa ci si posiziona uno di fronte all'altro e si sceglie a quale fazione appartenere se si è il difensore si prenderà il segnalino pollo ed i tre calderoni olio mentre invece l'attaccante prenderà il segnalino cuoco dopodiché si vanno a posizionare le sette tessere muro in precisamente in quest'ordine viene mostrato ovviamente nel libretto di istruzioni poi viene mescolato il mazzo a sedio e messo accanto alle tessere muro dopodiché ogni giocatore prenderà sei carte a testa che posizionerà davanti a sé coperte lo scopo di questo gioco è per l'attaccante invadere il muro difeso dal difensore e quindi per vincere deve riuscire o a danneggiare quattro tessere muro o addirittura a distruggerne una mentre invece per il difensore la possibilità di vincere avviene se riesce a far sì che il mazzo a sedio finisca senza ovviamente aver avuto quattro muri danneggiati o uno distrutto oppure aver posizionato tutte le sue formazioni quindi avere formazioni complete e non aver avuto le caratteristiche che doveva avere l'attaccante per vincere passiamo ora allo svolgimento del gioco in questo gioco inizia sempre l'attaccante durante il proprio turno bisogna passare attraverso queste fasi in questo ordine la prima azione è l'azione di preparazione che è opzionale ovviamente durante il video tutorial spiegherò una una nel dettaglio queste azioni la seconda azione è giocare una carta la terza azione è pescare una carta dopodiché c'è l'azione che può fare solo l'attaccante che è dichiarare il controllo ovviamente anche questa la spiegherò dopo per comodità per far capire meglio queste azioni l'azione preparazione che quindi è l'azione che viene fatta prima di giocare una carta ma è opzionale la spiegherò dopo capirete poi ovviamente il perché quindi passo direttamente alla seconda azione che è giocare una carta azione giocare una carta il giocatore come abbiamo detto all'inizio parte sempre l'attaccante dovrà quindi giocare una sua carta scelta tra quelle che ha in mano e posizionarla seguendo le seguenti regole la prima è che il numero di carte che viene giocato ovviamente questo gioco si gioca una carta alla volta ma man mano che il giocatore andrà a giocare carte quindi un turno dopo l'altro non potrà il numero di carte che viene posizionato non potrà mai superare il numero che troviamo sopra la testa in questo caso due carte la seconda regola che quando vengono giocate le successive carte devono essere posizionate sempre in ordine a scendere rendendo visibile la carta che è stata giocata precedentemente questo perché perché quando il turno del difensore che può utilizzare l'azione che ho detto prima che è la prima azione però opzionale la spiego adesso come ho detto proprio per farla capire meglio il il difensore prima di giocare una carta può andare a decidere di giocare un calderone olio questo calderone olio come funziona quando il difensore decide di giocarlo va ad eliminare la prima carta che l'attaccante era andato a posizionare quindi in questo caso il 10 viene eliminato il calderone viene poi preso e ovviamente scartato non potrà essere più utilizzato il difensore il pollo ha tre calderoni a disposizione per tutta la partita e può giocarne solamente uno per turno quindi una volta terminati non ne avrà più a disposizione il giocatore l'attaccante cui viene è stata scartata questa carta viene presa e posizionata a lato dell'area di gioco perché tutte le carte che verranno scartate devono essere posizionate poi a lato dell'area di gioco visibili e divise per colore questo perché perché praticamente durante la partita si potrà capire anche questo lo capirete durante il video tutorial si può capire se l'attaccante le condizioni di vittoria verso di vittoria diciamo di controllo della tessera muro perché dalle carte che sono state utilizzate il difensore non ha più quelle carte a disposizione non sono più giocabili in quel caso si capisce che l'attaccante ha il controllo di quella tessera muro l'altra prima azione opzionale che invece può fare l'attaccante è quella di ritirarsi questo come avviene durante lo svolgimento di gioco se il difensore l'attaccante hanno giocato queste carte e l'attaccante capisce che è in una situazione di svantaggio quindi per esempio lui ha già giocato queste due carte e il difensore non ha ancora completato la sua formazione difensiva quindi mettiamo caso che il turno dopo il difensore abbia giocato altre carte da altre parti l'attaccante in questo caso avendo già completato che era di due carte questa zona può decidere di andare a ritirarsi vedendo già che anche il pollo ha un 7 e anche lui però ha solo un 1 quindi per somma ora infatti spiegherò quali sono le condizioni per vincere un per avere il controllo di un muro o la difesa potrebbe giocare tranquillamente gli basterebbe già solo un 2 quindi in questo caso l'attaccante può decidere di ritirarsi prendere le sue carte e scartarle e andare quindi poi a giocare una carta in quanto come ho detto questa è un'azione che viene fatta prima della prima azione di giocare una carta quindi nel gioco di appunto giocare una carta qual è lo scopo e come si deve fare per andare ad avere il controllo dei muri o delle tessere muro oppure della difesa del muro allora come possiamo vedere sulle tessere muro ci sono il numero di carte che devono essere giocate il numero massimo e in alcune ci sono dei simbolini in questa tipo ci sono dei più cosa vuol dire che le tre carte con la somma più alta avranno il controllo di questo muro quindi se l'attaccante con la somma delle sue carte avrà per esempio un 18 ed il difensore un 13 ovviamente questa carta l'attaccante avrà preso il controllo di questa tessera verrà quindi girata poi dal lato danneggiato quindi queste carte che ci sono inizialmente dal lato muro intatto sono solo praticamente che la somma va a far determinare chi ha il controllo di quel muro l'unica diversa è questa che ha il meno quindi quella con la somma più bassa avrà il controllo successivamente quando le tessere vengono girate dal lato danneggiato hanno altre illustrazioni che spiegherò nel dettaglio a fine tutorial durante l'azione giocare una carta ci sono due carte lo 0 e l'11 che come possiamo vedere hanno l'illustrazione del pollo quindi il difensore e del cuoco che è l'attaccante in questo caso cosa succede quando vengono giocate queste due carte dello stesso colore quindi lo 0 e l'11 se per esempio l'attaccante aveva giocato un 11 ma poteva averlo giocato in qualunque ordine anche come seconda carta se il difensore va a giocare lo 0 nella stessa area di gioco queste due carte si vanno ad annullare e vengono quindi scartate ovviamente può capitare anche il contrario che venga giocato lo 0 dall'attaccante e l'11 dal difensore o che venga giocato prima una o prima l'altra carta non è importante l'ordino chi l'abbia giocato ma queste due carte quando si trovano nella stessa zona di muro si annullano e vengono quindi automaticamente scartate dopo aver svolto l'azione di giocare una carta viene immediatamente pescata una carta per ripristinare il proprio la propria mano in quanto bisogna sempre avere sei carte come detto precedentemente se si arriva a non poter pescare più carte perché il mazzo è terminato la vittoria sarà del difensore vediamo ora come si va a dichiarare il controllo di una tessera muro da parte dell'attaccante per dichiarare il controllo di una tessera muro ci sono due possibilità o che tutte e due su entrambi i lati della tessera muro c'è una formazione completa quindi faccio subito un esempio questa tessera richiede due carte per esempio ci troviamo in questa situazione in cui l'attaccante ha giocato queste due carte ed il difensore queste altre due per somma maggiore ovviamente 7 e 5 12 e 9 1 10 per somma maggiore l'attaccante avrà il controllo di questa tessera muro verrà girata quindi dal lato danneggiato e le carte scartate e suddivise come detto prima per colore a lato dell'area di gioco la seconda condizione in cui l'attaccante può dichiarare il controllo di una tessera muro è nel caso in cui anche se il difensore non ha ancora una formazione completa ma lui praticamente dice riferendosi alle carte già che sono state giocate quindi sa che non potrà andare il difensore a superare la sua formazione in questo caso può dichiarare il controllo della tessera muro se verificando le condizioni effettivamente non può essere difeso questo muro verrà nuovamente girato dalla parte di muro danneggiato e scartate le carte questa dichiarazione deve essere fatta senza considerare gli eventuali 0 che quindi andrebbero ad far scartare l'11 dell'attaccante e senza considerare neanche gli 0 o gli 11 ovviamente in base a quale carta è stata posizionata e non devono essere considerati neanche i calderoni d'olio che eventualmente il difensore potrebbe giocare nel caso quindi che non ci siano più carte disponibili per andare a contrastare questa formazione oppure il difensore decida di non sprecare perché magari in quel caso per lui è sprecare un calderone d'olio avrà il controllo l'attaccante si girerà la tessera e verranno scartate queste carte il gioco come detto procede in questa maniera a turno di attaccante difensore attaccante difensore fino a che come ho detto precedentemente non si hanno le condizioni di vittoria per l'attaccante o per il difensore andiamo ora a vedere nel dettaglio come ho detto prima le caratteristiche che ci sono segnate su ogni tessera muro per capire le combinazioni di carte che devono essere messe in ogni lato di tessera muro per riuscire ad ottenere il controllo oppure per difendere il muro come detto prima dal lato di muro integro abbiamo solo il simbolo di quanti quanti del numero diciamo di carte che deve essere utilizzato quindi in questo caso tre carte non c'è alcun simbolo sopra in quanto qui si può mettere qualunque combinazione di carte qualunque combinazione di carte perché perché a diciamo faccio l'esempio un po del poker ci sono delle combinazioni di carte che hanno più valore e rispetto ad altre e questo dove lo vediamo lo vediamo oltre che nel libretto di istruzione ovviamente anche in questa carta di aiuto del giocatore come vediamo ci sono le combinazioni di carte che vanno dalla più forte alla più debole quindi la scala e colore quindi la sequenza di numeri in qualunque ordine qui si possono mettere quindi ora qui l'esempio fa vedere 3 4 5 6 ma possono le carte poi che vengono posizionate qui possono essere anche in ordine sparso quindi magari un 3 poi un 6 poi un 4 poi un 5 ovviamente qui solo due carte quindi nell'esempio di dove ce n'è 4 si potrà andare a mettere un 3 un 5 un 4 un 6 non è importante l'ordine l'importante che ovviamente ci sia una sequenza continua e di stesso colore questa è la formazione più forte del gioco la seconda è stessa forza quindi stesso numero la terza formazione è lo stesso colore dopodiché si ha solo la scala quindi non dello non di carte dello stesso colore ma di colori diversi e l'ultima è la somma qui quindi la somma più alta di del totale delle carte che sono state giocate vediamo quindi nel dettaglio dove sono richieste queste caratteristiche se noi giriamo le tessere dal lato danneggiato come possiamo vedere in questo caso per riuscire ad avere il controllo del muro abbia troviamo dei simboli di uguale cosa vuol dire che sono in questo caso sono considerate solo formazioni della stessa forza quindi come ho fatto vedere prima dalla carta aiuto solo carte con lo stesso numero ricordo che in nei casi in cui c'è una una caratteristica che è segnalata sulle carte spiegherò anche questa dopo ovviamente se non si va a soddisfare questa vale sempre comunque la somma delle carte quindi in questo caso se devono essere della stessa forza ma io non ho carte da utilizzare dello stesso numero posso andare ovviamente lo stesso a utilizzare carte diverse che nel caso in cui dall'altra parte venga fatta la stessa cosa andrà a vincere comunque sempre chi ha una volta che la formazione completa chi ha la somma più alta ovviamente essendo che bisogna rispettare prima la caratteristica che viene richiesta dalla tessera muro se uno dei due invece utilizzasse lo stesso quindi in questo caso qui facciamo finta che il difensore riesce ad avere carte della stessa forza quindi di 11 ovviamente anche nel caso in cui anzi facciamo l'esempio così perché risulterebbe una somma più bassa e più comprensibile alla stessa forza nel caso in cui come vediamo qui ci sarebbe come somma un 14 contro un 21 quindi a livello di somma vincerebbe l'attaccante però la tessera muro essendo che richiede la stessa somma il praticamente la forza più alta viene data da questa caratteristica quindi in questo caso vincerebbe il difensore che ha utilizzato carte della stessa forza questo altro simbolo indica la formazione colore quindi carte dello stesso colore vale sempre lo stesso discorso che ho fatto un attimo fa per la somma che quindi in questo caso il colore ha supremazia su una somma anche maggiore nel caso tutte e due non utilizzino carte dello stesso colore ovviamente vince chi ha la somma più alta questo altro simbolo indica una scala quindi come ho fatto vedere prima carte posizionate consecutivamente ma chiedo scusa non posizionate consecutivamente ma carte che siano consecutive quindi in questo caso tre carte possono essere un 3 un 4 o 5 ma anche posizionate sotto sopra il muro in ordine casuale quindi 4 5 e 3 altro caso questo qui c'era anche all'inizio dalla parte del lato muro è integro sono almeno quindi la somma più bassa questo caso nuovamente colore nuovamente stessa forza e qui troviamo nuovamente la scala queste sono le regole per il gioco base troviamo poi all'interno del gioco stesso la variante tattica che andrò a spiegare ora brevemente in maniera da farvi capire anche questa possibilità di gioco che appunto solitamente si va a aggiungere dopo aver preso dimestichezza con il gioco base nella variante tattica viene preso anche il mazzo di carte tattica che trovate ovviamente all'interno della scatola vengono mescolate e viene fatto un mazzo che viene messo accanto alle carte a sedio all'inizio del gioco rispetto al gioco base vengono pescate 7 carte all'inizio invece che 6 quindi nella nostra mano ogni turno avremo 7 carte ogni volta che giocheremo una carta ovviamente come detto nelle regole andremo a ripristinare la nostra mano aggiungendo quindi una carta e riportandola a 7 però in quel caso dopo il primo round quindi possiamo andare a decidere se pescare una carta dal mazzo a sedio oppure dal mazzo di carte tattica quando il mazzo tattica sarà vuoto ovviamente non potremo più andare a pescare carte da questo mazzo vediamo ora cosa fanno e cosa danno queste carte tattica l'unica limitazione che abbiamo di gioco in queste carte è che non possiamo mai superare di più di uno la giocata di queste carte rispetto all'avversario in che senso faccio subito l'esempio che fa capire meglio ovviamente se io durante il mio turno gioco una carta tattica sono già avanti tipo di uno come carte giocate quindi il mio avversario finché non giocherà anche lui una carta tattica e quindi andremo a pari avendone giocata una a testa io non potrò giocare un'ulteriore carta tattica questo perché se no ovviamente andrei sempre a pescare io carte da questo mazzo e avrei troppo vantaggio nel gioco quindi nel caso in cui anche io abbia giocato due carte tattica e il mio avversario una non posso giocare un'altra finché non sarà andato a pari come giocate di queste carte il mio avversario quindi non avrà giocato anche lui la sua seconda carta tattica vediamo ora nel dettaglio queste carte tattica troviamo le truppe scelte che vengono giocate come carte assedio troviamo il jolly che è una carta che assume il colore e la forza a nostra scelta quando l'attaccante dichiara il controllo poi abbiamo la spia che è una carta che ha valore 10 assume il colore che si preferisce quando l'attaccante anche qui dichiara il controllo dopodiché abbiamo la carta scudo anche questa è una carta jolly e assume il colore e la forza a nostra scelta tra 1, 2 o 3 anche qui quando l'attaccante dichiara il controllo queste carte tattica invece sono azioni e vengono giocate dopodiché scartate immediatamente queste sono spiegate nel dettaglio una a una sopra la carta stessa quindi come potete vedere abbiamo ridistribuzione scegliete una carta qualsiasi sul vostro lato del muro e spostatela su una tessera muro diversa dal vostro lato oppure scartatela dopodiché abbiamo diserzione scegliete una carta giocata sul lato del muro del vostro avversario e scartatela tradimento scegliete una carta giocata sul lato del muro del vostro avversario e giocatela dalla vostra parte supporto scegliete due carte scartate e mescolatele nel mazzo non potete giocare supporto se non ci sono carte o solo una carta negli scarti reclutamento scegliete una carta scartata e giocatela sul vostro lato di una tessera muro esplosione scartate tutte le carte su entrambi i lati di una tessera muro a vostra scelta scambio ogni giocatore sceglie tre carte della propria mano e le scambia con l'altra queste sono le carte azione questo era il video tutorial di Shotten Totten 2 io spero che vi sia stato comprensibile e che vi abbia aiutato a capire questo gioco vi ringrazio per avermi ancora seguito e come sempre vi auguro buon gioco